un minuto compadre più dei luoghi del convento di san giovanni rotondo questa strana temperatura di novembre che ci dà l'opportunità di stare qui e raccontarvi quello che voi stessi volete condividere con noi in questo ecco questa mail che vedete in sovrimpressione dove scrivete le vostre storie le vostre testimonianze ed è bello condividerle perché ci dà l'opportunità di di sottolineare quanto padre pio sia un santo speciale per tanti per tanti devoti sparsi in tutto il mondo ma restiamo in puglia anzi nella vicina taranto anche se poi dobbiamo spostarci in molise perché ci racconta maria pensate una quindicenne e noi siamo molto contenti che dei ragazzi si avvicinano a padre pio e alla sua storia vuole condividere la sua storia la sua testimonianza nativa di taranto maria una famiglia molto cristiana la mamma gli ha sempre insentianato ad amare dio prima di tutto e nell'estate degli undici anni racconta i genitori si sono trasferiti in molise nel paese natale di mia madre scrive maria ho sofferto molto di questo cambiamento perché lasciavo tutti i miei ambienti la mia parrocchia i miei amici e quindi questa devozione forte che avevo verso padre pio tanto che tutti gli anni racconta che si celebra questa grande veglia del 22 settembre la ricordo con molto affetto e le racconta che c'è stato un episodio particolare nella sua chiesa che è un po la scombussolata gli ha un po ecco è entrato in modo prepotente padre pio nella sua vita la vita di questa ragazza di questa adolescente si trovava nella chiesa che frequentavo dice c'era una bella statua proprio raffigurante padre pio ricordo che sognai di essere sola in chiesa e che la statua non era al suo solito posto ma sui gradini dell'altare abbastanza spaventata allora ricordo di aver esclamato ma la statua si muove il padre con fare molto dolce mi disse non ti spaventare non temere sono io io ancora più spaventata racconta maria più spaventata di prima uscì dalla chiesa per avvisare mia madre ma quando tornamo indietro la statua era ferma allora questo sogno abbastanza particolare che ancora oggi conservo con grande cura nel mio cuore da quel momento iniziai a domandarmi cosa potesse desiderare da una bambina come me questo santo così grandioso racconta maria così ne parlai con la maestra anche lei molto devota ma mi disse semplicemente che padre pio mi voleva bene e mi proteggeva in seguito maria ha sognato anche la vergine descriveva maria il suo nome con un cuore di carta nella cappella del paese in cui lei vive solo in seguito il signore scrive maria mi ha dato la luce per poter capire comprendere che quei sogni non sono state coincidenze infatti qualche anno dopo scrive ci siamo trasferiti qui proprio qui a seguito di eventi molto dolorosi della vita ho scoperto questa vocazione la vocazione che il signore ha messo nel mio cuore a 12 anni racconta maria voleva diventare monaca di clausura fin da allora il caro padre pio non mi lascia mai e mi indirizza e mi aiuta nella strada della vita in molte delle lettere scrive maria che leggete avverto dei messaggi chiari degli avvertimenti addirittura anche dei suggerimenti più di una volta dopo essermi fatta una domanda il padre mi ha dato una risposta proprio nei vostri video racconta maria il mio intento se così si può chiamare di intraprendere questa vita contemplativa perdura tuttora nonostante tutte le difficoltà e non mancano mai lo scorso anno ancora scrive maria padre pio mi è venuto nuovamente in sogno e fra tutta la folla ha desiderato salutare me la mia gioia il risveglio non è descrivibile con parole umane forse anche troppo presto per prendere questa decisione così importante per la mia vita ma sento un forte rifiuto per il mondo è una grande attrazione in dio non so cosa veramente egli ha in serbo per il mio futuro ma sono certa che padre pio mi sarà sempre a fianco e lì sono infinitamente grata per questo grazie a te maria